Sono stati ritrovati i resti dell'elicottero militare statunitense scomparso martedì scorso in Nepal. Lo hanno detto le autorità locali, mentre Washington ancora non conferma. Il velivolo non era rientrato alla base dopo essere partito per una missione di soccorso vicino al confine con la Cina. A bordo c'erano sei marinse e due soldati nepalesi. Vicino alla zona del ritrovamento, a una sessantina di chilometri a est di Kathmandu, sono stati recuperati tre corpi. Il Nepal è in lutto dopo i due terremoti che nelle ultime tre settimane hanno causato almeno 9.000 morti. La zona più colpita è il distretto di Dolhaka, a nord-est della capitale, al confine con la regione dell'Everest. Anche nella notte tra giovedì e venerdì c'è stata una scossa di magnitudo 4.9.